Sono particolarmente inieta di essere qui e di testimoniare quello che l'Istituto Giordani di Caserta ogni giorno fa come esempio. Noi educatori abbiamo una missione speciale e in effetti noi dobbiamo rappresentare coloro che buttano insieme per poter raccogliere. Oggi parleremo con i nostri ragazzi e manifesteremo con i nostri amievi in termini musicali, teatrali, in termini di reading dell'importanza di questo giorno, ossia dare a una donna una nuova dignità affinché un uomo possa sentirne realmente compagna, compagna di vita, compagna di un viaggio meraviglioso e non una donna che ancora oggi debba essere distrattata e uccisa perché l'uomo sente un senso del potere e solo non possederla. Noi educatori abbiamo questo gran messaggio da dare ai nostri giovani, ci auguriamo che le famiglie possano fare altrettanto, perché oggi fare scuola, mi creda, è difficile, in quanto sono un esempio, è sempre un esempio, come diceva una grande donna, Maria Teresa, madre di Cacutta, ha sempre detto, e cioè un esempio rappresenta insieme. Grazie a tutti.